Lui, qualsiasi sua dichiarazione, il tema è questo, manca in questo momento un'opposizione capace di sviluppare dei temi per inchiodare politicamente la Meloni, ma anche nel piccolo criticare la Meloni perché si candida ed è una truffa elettorale presentarsi alle elezioni sapendo che non finisce a Bruxelles, ma come può la Schlein attaccarla se fa altrettanto? Come può Calenda attaccarla se fa altrettanto dopo aver mentito un mese fa dicendo mai e poi mai mi candiderò perché è un segno di serietà non candidarsi altrimenti la gente non vota e oggi dice per giustificare l'ennesima piruetta a raccolgo la sfida della Meloni, ma chi ti ha sfidato? Cioè di fronte a questo meccanismo chi non vota aumenta!